Buongiorno, buon mercoledì 21 ottobre. Si apre l'edicola di 696 TV 8 Channel e andiamo subito a consultare i quotidiani per avere tutte le notizie che arrivano dall'Italia e dal resto del mondo. Partiamo ovviamente dal provvedimento firmato ufficialmente nella notte, l'ordinanza numero 82 del governatore De Luca per le nuove scelte che regoleranno i controlli per il coprifuoco in Campania. Coprifuoco militare, stiamo vedendo insieme, consultando insieme la prima pagina del Roma che appunto titola così Coprifuoco militare tutto chiuso dalle 23 alle 5. Stop, alla mobilità alle 24 arrivano 100 soldati nuovi spostamenti tra le province, contagio e tamponi in calo ma mancano gli anestesisti. Quindi come vedete i provvedimenti adottati per strade sicure vengono appunto scelti per una sorta di controllo a tappeto che presidierà le strade campane da venerdì per poter appunto controllare le persone ed imporre il rispetto delle legole. Napoli e Campania malate, Zuccherelli intervenire subito altrimenti vedremo sfilare i cardi con le bare. Il vicepresidente dell'ordine dei medici partenopei dice alleanza forte tra cittadini e istituzioni. E poi i sindaci sceriffi, l'ASMEL critica l'ANCI mentre il governatore riapre forse le elementari. Ebbene a mezzanotte il provvedimento è stato ratificato, le elementari non riaprono così facilmente ma il governatore prende tempo, dà il via libera, dà attività in presenza per i bambini e ragazzi autistici ma per le elementari prende tempo proprio per analizzare il contagio zona per zona. De Luca ora è coprifuoco dal weekend, andiamo nello specifico, dalle 23 alle 5, mobilità vietata da mezzanotte e arrivano 100 militari. Ma vediamo qual è stato proprio l'impatto sui cittadini campani nella giornata di ieri, una giornata di lunghe trattative con unità di crisi ed esperti per avviare il provvedimento. Il coprifuoco dalle 23 con conseguente blocco di tutte le attività e della mobilità annunciato dal governatore Vincenzo De Luca divide i cittadini campani tra chi si dice favorevole a misure drastiche per contenere l'avanzare dei contagi da Covid-19 e chi teme un nuovo lockdown definitivo con conseguenze drammatiche per l'economia. La prendiamo come viene, così, come viene, siamo adattivi. Speriamo che si possa evitare, questo è un ultimo tentativo prima di arrivare al lockdown come quello di marzo e aprile. Non ce la facciamo più sostanzialmente perché è tutto bloccato e anche chi lavora, chi va a scuola, quindi non... però mi rendo conto che è necessario per la salute, quindi... però speriamo che finisca presto, insomma. L'idea è confusa, speriamo che qualche cosa cambi. È pericolosa la situazione perché non sappiamo quale può essere l'accoglienza dei ospedali. Non a me era più necessario adesso che prima, quindi purtroppo la colpa di tutti è sempre rivolta verso di noi. Le misure di De Luca sono veramente drastiche, non se la deve prendere con la movita, ma il virus ci sarà nei posti di lavoro, nelle fabbriche, potenziasse più la sanità o posti di sapiglia che ha movita. Spero di non rimanere un'altra volta chiusi in casa perché quest'anno è l'ultimo per me, le superiori, quindi mi sarebbe uno sprint, diciamo, maggiore, che a casa è un po' più difficile. Sicuramente anche noi abbiamo una parte di colpa, ma penso che la responsabilità sia un po' di tutti, quindi bisogna sempre regolare la colpa di chi è veramente. Si spera che non chiudano tutto, diciamo, soprattutto per questi commercianti del posto, insomma, che sarebbe veramente una catastrofe, penso. Penso che sia pure giusto per le prevenzioni, perché ci sono troppi ragazzi in giro e quindi automaticamente forse è meglio così per un po' di giorni, mentre si calmano le cose. Questi parelli dei campani sono ordinanza che va a stringere le misure anticontagio, lieve calo sui numeri, ma purtroppo la situazione coronavirus in campagna resta delicatissima. Andiamo avanti, sfogliamo ancora in Roma. Scendono i positivi e tamponi, raddoppiati posti disponibili in terapia intensiva, ma mancano gli anestesisti. Sono 12 morti tra il 13 e il 19 ottobre, altri due in Irpinia, Avellino, ospedale chiuso ai visitatori e così si spacchetta anche quello che è il provvedimento dedicato al comparto sanitario tra la corsa ai posti letto per le terapie intensive, per scongiurare il caos negli ospedali pieni, come abbiamo visto appunto, è successo purtroppo in primavera. E intanto al Moscati, all'Andolfi, si corre ai ripari, proprio chiudendo le porte a visitatori dei pazienti, utenti appunto, se non in via del tutto necessaria, strettamente urgente e indifferibile, proprio del nosocomio. Intanto, ecco il Covid Residence dell'ospedale del Mare. Oggi aprono i primi due piani, 22 stanze attive, si va da un minimo di 86 posti a un massimo di 186. Intanto i contagi restano elevati, più morti. Guardiamo anche quello che è il coronavirus in Italia per avere anche un quadro completo di come vanno le cose nelle altre regioni. Lombardia e Veneto ai primi due posti. La regione meno colpita resta la Basilicata che tiene sul fronte dei contagi, altri 10.874 casi e sono 89 le persone che purtroppo hanno perso la vita. Aumentano i ricoveri, superati i 40 milioni di infetti nel mondo. È davvero trasversale il contagio che continua, purtroppo, a correre ancora troppo rapidissimo. Consentite solo le riunioni private. Si potranno utilizzare anche i militari per il controllo delle strade e arrivano i chiarimenti del Viminale su quello che è il provvedimento governativo nazionale che si va ad intrecciare con quello scelto e dedicato alla campagna dal governatore. Adesso guardiamo il taglio centrale. Gino Iacono, Francesco Pepe, Rosaria Capobianchi, Concetta di Santo. Ecco chi sono? Sono gli eroi del Covid. Ci sono quattro campani tra i premiati dal capo dello Stato. Francesco Pepe ha dovuto chiudere il ristorante a Cagliazzo di Caserta, ha preparato pizze e biscotti per i poveri e gli anziani in difficoltà. Concetta di Santo vive in Lombardia ma in Napoletana ed è un addetta alle pulizie in un ospedale milanese. Maria Rosaria Capobianchi è il capo del team dello Spallanzani di Roma che ha contribuito, come ricorderete, ad isolare il virus Gino Iacono. Il professore Ischitano, che pur ammalato di Covid, continuò ad insegnare dal letto di ospedale. Quindi quattro storie di eccellenze e campane nei tempi duri della pandemia. Abbiamo guardato insieme rapidamente quelle che sono le principali notizie selezionate dal storico quotidiano in Roma. Adesso passiamo sulla prima pagina di Repubblica che titola L'Italia sta chiudendo, Speranza dice dovete restare a casa. Il ministro per la salute dice dopo la Lombardia coprifuoco in Campania stop ai centri commerciali nel weekend in Piemonte. Ieri 10.000 contagiati in più, battaglia tra PD e Premier sul blocco dalle 23 alle 6. Mattarella dice non è il momento per le divisioni. Un appello al senso di responsabilità. Quello che ovviamente rilancia il capo dello Stato. Ma andiamo nel primo piano. Stop via a nuove strette in Liguria e Piemonte. Speranza state a casa. L'effetto domino, le misure nelle regioni, coprifuoco, scuole, centri commerciali e assembramenti sono i quattro punti cardine contro cui si scaglia il governo verso un nuovo decreto ma sul no il coprifuoco conte a pochi alleati. E poi ancora, sfogliamo ancora insieme Repubblica, convivere col virus è sempre il primo piano che tiene appunto il trade union delle varie pagine che analizzano l'emergenza coronavirus e appunto parla Giulio Gallera, ha riavviato la sanità per i letti covid tagliati. Più giovani e meno gravi, nuovi malati in rianimazione. Guardiamo anche quello che è il profilo dell'inchiesta di Repubblica che parla un po' dell'identikit, possiamo dire, della seconda ondata. Nell'attack i polmoni sono colpiti come a marzo ma le persone sono più sane e la mortalità è più bassa. Questo è davvero un dato che inquieta molto perché cambia il profilo del paziente, del malato che viene colpito. Ovviamente il parametro con la situazione invernale è stato quello di un lockdown severo con la chiusura totale dell'Italia che ha visto proprio milioni di famiglie restare a casa. Ma intanto c'è stato anche in Campania il decreto che ha dato il via libera ai laboratori privati per poter effettuare i tamponi, una vera e propria svolta e soprattutto sono stati tanti i cittadini che di propria libera iniziativa hanno deciso di fare appunto uno screening ed accertarsi delle proprie condizioni di salute se avessero o meno contratto il virus. La regione Campania da alcuni giorni ha autorizzato i laboratori privati alla realizzazione dei tamponi per il coronavirus. I centri sono oltre 40 e tutti si sono organizzati per creare un sistema di prenotazione. Ciononostante, proprio all'esterno di questi laboratori continuano a formarsi delle lunghe code soprattutto con l'aumento della paura generata dai numeri sempre crescenti dei positivi e dalle difficoltà del sistema sanitario territoriale a tracciare e rendere noti risultati in tempi brevi. Meglio qui che al frullone che bisogna andare di notte e scendersene di notte. Però sono persone che vengono anche da altri centri e stanno tante ore. Sì, mi conviene aspettare perché già sapere da barzieri da assicurare se tengo covid o non lo tengo covid mi piace fare le cose giusto. Poi la gente ha paura e si rega anche quando non ve ne è bisogno. I laboratori privati offrono il servizio non tutti però alle stesse condizioni e i costi di un tampone possono arrivare anche a 70-80 euro. In 24 ore ho avuto le risposte del mio referto e purtroppo dobbiamo recarci solo nei laboratori per poter fare questo tipo di analisi e dobbiamo farle anche a pagamento. Quindi con pazienza siamo qui, aspettiamo, facciamo le file pagando. Purtroppo la situazione è questa stiamo vivendo in una situazione di affanno e l'unico modo è mettere mano alla tasca e fare quello che si deve fare. Ma è vergognoso, è vergognoso. E guardiamo insieme anche un approfondimento. Noi da eroi assecatori, pochi a tracciare i positivi ce ne sfuggono 4 su 5. Con i miei colleghi di Bologna facciamo tre indagini al giorno a testa, però manca il personale. Un altro fronte dell'emergenza è quello che era stato l'annuncio degli innesti dei posti di lavoro per i sanitari che non ci sono stati. Quindi gli ospedali, oltre ad una cronica carenza di posti letto questa sorta di corso alle terapie intensive da allestire in maniera davvero urgentissima si sono trovati a far fronte con l'assenza di organici sufficienti. Continuiamo con il nazionale, guardiamo insieme la prima pagina del mattino appunto sul lockdown in Campania. Non si uscirà di casa dalle 23 alle 5 abbiamo già visto i profili dell'ordinanza i contagiati Covid dietro il paravento il pronto soccorso del Cardarelli ormai è preso d'assalto la prima frontiera sono i triage dei pronto soccorso in cui si spacchettano ovviamente i casi sospetti di Covid che molte volte purtroppo stanno diventando casi confermati che vanno ovviamente ad accavallarsi alle normali urgenze di un pronto soccorso proprio fuoco dalle 23 c'è anche la curva del virus in Campania e poi ancora l'incubo dei medici i camion con le bari questo era il vicepresidente dell'ordine Zuccarelli c'è gente che sta facendo finta di niente come se non esistesse l'epidemia servono misure più forti e più radicali andiamo avanti questo era il mattino ma continuiamo adesso a consultare le notizie provincia per provincia in Campania partiamo da Napoli e partiamo da Repubblica vediamo appunto la Campania verso il coprifuoco ma riaprono le scuole elementari purtroppo questa notizia è stata smentita intorno a mezzanotte da un'ordinanza che ha fatto dietro front rispetto alle provvedimenti presi annunciati dal governatore il confronto serrato andate avanti per molte ore ha confermato che le scuole elementari dovranno avere ulteriori accertamenti non c'è una riapertura immediata per il 26 ottobre continuiamo a sfogliare la Repubblica Covid, allarme ospedale pochi posti letto abbiamo già visto cambiamo argomento andiamo avanti Napoli spettacoli Gabriele Russo il sogno del teatro sempre aperto abbiamo cambiato argomento dopo il primo piano sul coronavirus riapre la storica sala di Via Conte di Ruvo con Piano B la platea fin sotto il palcoscenico domani in rivisitazione delle Cinque Rose di Jennifer un'opera di Ruccello e la Trapanaterra le offerte fino a dicembre quindi si cerca di rimettere in moto anche quello che è il teatro a Napoli adesso andiamo nelle altre province guardiamo appunto cosa succede ad Avellino focolaio del centro di Alisi il virus uccide due infetti si sono spenti un 56enne di Mirabella e un 91enne di Venticano altri 30 positivi nuovi casi a Cervinara dove il focolaio purtroppo non si spegne e poi ancora il Moscati si blinda c'è sovietato a parenti dei malati e intanto c'è una questionataio alto l'interdittiva antimafia per l'impresa Cogepa stop all'autostazione l'air rescinde il contratto il completamento dei lavori ritorna ad essere un miraggio quindi l'incubo di una eterna incompiuta che sembra davvero non trovare fine mai andiamo all'interno guardiamo appunto il caso coronavirus ricoverato anche la madre del 15enne il ragazzino che era rimasto contagiato l'allerta in massima nel capoluogo intanto al frangipane l'asla replica Franza priorità alle questioni urgenti l'asla Avellino non sono andate giù le dichiarazioni del sindaco Franza sul rischio di un'imminente trasformazione dell'ospedale frangipane per l'asla ha solo disposto sino a nuova disposizione dei ricoveri programmati quindi presa dura di posizione della manager Maria Morgante due vittime in poche ore e poi ancora andiamo il focolaio maledetto del centro di Alisi la caccia ovviamente è una caccia anche ad isolare il virus a provare a trovare quelle che sono le cause in innesco delle infezioni e appunto c'è un centro di Alisi che ovviamente è al centro delle indagini dell'asla per isolare eventuali nuovi positivi sellitto medici di base abbandonati massiamano il vero presidio e questa è appunto la dichiarazione del presidente dell'ordine va bene lo stop notturno ma i ragazzi restano davanti ai bar chiusi vicinissimi e senza mascherine quindi un'analisi davvero impietosa di quello che accade purtroppo in tante serate di Movida ad Avellino come in tante altre città festa intanto si oppone al coprifuoco ci penalizza le scelte di De Luca di promuovere il lockdown a partire da venerdì non incontrano i favori appunto del sindaco di Avellino qui siamo in grado di fare prevenzione parlerò con Anci soddisfazione per la riapertura delle elementari come vi ho detto appunto un provvedimento che parzialmente è stato ritoccato ma da Avellino ci spostiamo nel sagno vediamo quali sono le nuove notizie che arrivano da Benevento e provincia il virus fa un'altra vittima boom di contagi e ricoveri ma c'è il caso della De Girolamo risultata positiva effetto collaterale del processo vediamo l'ex parlamentare l'ex parlamentare inunzia De Girolamo è positiva al covid-19 lo ha annunciato attraverso i social raccontando che ha contratto la malattia durante una cena a Benevento purtroppo sono dovuta andare a Benevento e mercoledì ho incontrato una persona positiva al covid una persona a cui voglio molto bene con cui ho cenato e mi ha trasferito la malattia io ho fatto un tampone venerdì era negativo e invece ieri sera tardi ho saputo di essere positiva al covid la De Girolamo ora impegnata nel mondo della tv spiega che è in isolamento e lancia un appello a tenere alta la guardia a me questa malattia sta dando molti dolori tosse mal di testa non sto qua a dirvi ho iniziato già la terapia volevo solo farvi sapere che il covid c'è è subdolo si nasconde anche tra le persone a cui vogliamo bene tenete alta l'attenzione mascherina distanza isolamento in caso di dubbio perché veramente è dura e frenano i contagi da covid-19 nel Sannio secondo l'asla di Benevento 15 nuovi positivi con un totale di 388 casi e il direttore dell'ospedale Sampio Ferrante rassicura sulla mancanza di posti letto sin dalla prima ora non abbiamo mai abbandonato l'area covid l'abbiamo potenziato in questa fase 89 posti letto che abbiamo attivati i cittadini di Beneventani spero che non si ammalino ma eventualmente trovano massima assistenza presso la nostra struttura questa è la situazione nel Sannio continuiamo a guardare insieme la prima pagina del mattino di Benevento Benevento tra derby derby e rientro di Viola taglio centrale con foto in primo piano di Inzaghi intanto studia le mosse per fermare il Napoli e scatta il countdown per il match tra le due serie massime tra le due squadre di serie massima della campagna che si sfideranno al vigorito appunto domenica andiamo avanti covid un morto e boom di recovery abbiamo visto intanto le misure movide via e piazze off limits ma stella è tempo di scelte quindi i sindaci si dividono tra chi si allinea al provvedimento appunto regionale e chi invece fa opposizione in base ad altri provvedimenti che vorrebbe adottare in maniera autonoma abbiamo visto cosa succede nell'Irpinia nel Sannio ci spostiamo a Caserta contagio senza più freni è record di nuovi positivi in terra di lavoro le cose purtroppo non vanno meglio al Sant'Anna nuovo incremento dei posti per i pazienti covid sono saliti a 321 gli infetti ma c'è anche un'impennata dei guariti anche una piccola buona notizia sono 105 intanto guardiamo anche le altre notizie di Whirlpool riancio con batterie a litio ma è stato anche il giorno lungo del confronto tra i sindacati serrato perché ovviamente il termine ultimo per la Whirlpool di Napoli di Viargine lo stabilimento napoletano è annunciato per il 31 ottobre ma i sindacati non ci stanno i referenti di CGL Cisle Will annunciano pugno duro e la mobilitazione generale vediamo sono pronti a chiedere lo sciopero generale per il prossimo 5 novembre se la riunione al mese di giovedì su Whirlpool produca una fumata nera a parlare sono i leader di CGL Cisle Will di Napoli il 31 ottobre lo stabilimento di Viargine chiuderà i battenti questo è ciò che ha annunciato la multinazionale americana lo scorso anno le speranze di salvare il sito del capoluogo campano rischiano di essere ridotti a lumicino per noi la difesa di questa realtà è simbolica per la città di Napoli e per il mezzogiorno ecco perché non possiamo non difenderla e dobbiamo assolutamente ricreare quelle condizioni di sviluppo per noi è fondamentale che Whirlpool rimanga i sindacati hanno indetto proprio per giovedì una giornata di sciopero in tutti i siti in attesa delle decisioni che verranno prese in giornata e cercano di capire perché si sia arrivati a questo punto Whirlpool è la punta dell'iceberg ma noi dobbiamo difendere le presenze industriali e dobbiamo attirare nuovi investimenti abbiamo bisogno di sbloccare le risorse del recovery fund abbiamo bisogno che comune città metropolitana e regione investano su questo territorio su progetti concreti per dare nuova occupazione perché senza lavoro non si va da nessuna parte una lotta che appunto troverà un momento di confronto per giovedì un tavolo a cui prenderà parte anche l'assessore Buonanno l'avvertenza Whirlpool che seguiamo da un anno e sosteniamo da un anno ha bisogno di risposte chiare nette e precise nell'incontro del prossimo 22 di ottobre se così non sarà per quel che ci riguarda abbiamo una sola risposta possibile la proclamazione dello sciopero generale per il prossimo 5 novembre con la garanzia dei servizi essenziali nel pieno rispetto alle norme anti-covid queste le novità che arrivano dal mondo del lavoro terremoti occupazionali purtroppo in un'economia già fragile messa la dura prova proprio dall'emergenza coronavirus da Caserta ci spostiamo a Salerno contagi raddoppiati 10 morti ritardi e caos per i tamponi i medici di famiglia pronti a fare le sentinelle covid l'epidemia la recrudescenza del virus nel report settimanale ASL 82 positivi picchia scafati Cava e Salerno anche qui c'è la prima pagina dedicata al calcio il bicchiere mezzo pieno salernitana pareggio di rigore fiducia a Castori una buona gara coprifuoco dalle 23 così un supplizio meglio il lockdown l'ennesima stretta di De Luca gestore dei locali operatori culturali protestano dateci sostegno e chiudiamo per due settimane quindi ovviamente i ristoratori gli operatori del comparto ricettivo provano a suggerire anche soluzioni altre che possano dare un po' di sollievo alle casse delle piccole e medie imprese che ovviamente sono le maggiormente colpite come le grandi aziende dall'emergenza pandemia coprifuoco deciso senza consulti ma siamo pronti a scendere in piazza gli operatori commerciali dicono che la chiusura sarà il colpo letale i gestori della ristorazione commentano costretti al lockdown ma per strada intanto i giovani restano il problema sembra davvero essere quello dei giovani e poi ancora parliamo dei controlli prime comunioni cerimonie senza limiti blitz in due locali sei famiglie sorprese in noti ristoranti a San Marzano e pagani fuggi fuggi fallito scattano le multe e la chiusura l'economia colpita dal virus giù negozi cresce la tecnologia ovviamente questo è il riflesso immediato di come stanno andando le cose nelle città parliamo adesso della ragazza di legno un caso che davvero stiamo seguendo anche da parecchio tempo Arianna ancora senza assistenza fate presto presenta appunto l'avvocato un sollecito denuncia per la mancata nomina dei medici che devono visitarla e poi ancora sospeso il pagamento del risarcimento da parte del Cardarelli genitori in difficoltà la situazione resta sempre più grave quindi un nuovo appello lanciato da Petronilla Carillo dalle colonne del mattino sul caso della bambina di legno una bambina fatta da una disabilità molto seria raddoppiano i contagi ci sono anche 10 morti il dossier dell'ASL dell'ultima settimana parla di un vero e proprio boom di infetti nel Salernitano 674 i positivi sette giorni fa erano 380 i sindaci dicono situazione complessa non fate esami senza motivi reali tampone in ritardo i medici di famiglia noi siamo pronti cioè il fronte dei medici di famiglia che si annalza ospedali e laboratori o berati poi di richieste intanto cure negate nella disabilità pubblica faccio le chemioterapie a mie spese la storia di Aldo Macri che vi proponiamo appunto 58enne di Eboli ad Avellino mi hanno detto no ho dovuto affidarmi mi sono dovuto affidare al settore privato alla Federico secondo quindi storie di buona e mala sanità queste le principali notizie che abbiamo selezionato per voi dai quotidiani cartacei di oggi ma adesso ci spostiamo sul web su quella che è l'informazione in tempo reale passiamo appunto alle notizie di ottopagine punto it guardiamo insieme l'informazione in tempo reale quella che viaggia sul web appunto vi dicevo dell'ordinanza firmata a mezzanotte dal governatore De Luca non si riapre la scuola per ora Arzano zona rossa scuola elementare prendo tempo non si apre servono analisi localizzate potete trovare tutto il provvedimento spacchettato ovviamente per i vari fronti della nuova ordinanza intanto dal 23 ottobre c'è divieto di spostamenti tra le province di Campania da una provincia all'altra ci si potrà spostare soltanto per motivi di salute comprovati motivi di lavoro di natura familiare motivi scolastici offerenti ad attività formative socioassistenziali altri motivi di urgente necessità intanto guardiamo insieme la prima pagina ancora una volta e adesso andiamo a consultare le varie sezioni provinciali partiamo da Avellino Ariano Sinchina dinanzi all'avvocato Franza l'avvocato degli ultimi l'ultimo saluto a Luigi Franza nella camera ardente allestita in cattedrale ovviamente nel pieno rispetto delle normative anti-covid c'è stato il saluto appunto del politico e dell'avvocato vediamo insieme l'apertura di Benevento ancora una vittima a rummo per il coronavirus 18 nuovi positivi è deceduto all'ospedale un oltreottantenne della provincia di Napoli continuiamo a sfogliare le varie prime pagine di ottopagine.it dipendente positivo poste chiuse in città e poi ancora spaccio arrestate 38 persone nel casertano indagine coordinata della DDA spacciano i perditori di Marcianise Gricignano e Cesa da Caserta ci spostiamo a Napoli Berlusconi lancia D'Amato candidato a sindaco di Napoli ormai siamo nella piena campagna elettorale verso le amministrative la Lega vorrebbe candidare l'armatore Grimaldi spunta anche il direttore il rettore della Pegaso di Arvolino appunto iniziano a uscire i primi nomi del centrodestra per la candidatura a sindaco invece come ricorderete il sindaco attuale che appunto capeggia il popolo degli arancioni aveva proposto la candidatura di Anna Maria Clemente una candidatura che aveva trovato qualche fibrillazione proprio interna al popolo degli arancioni dei DEMA Pisani mille cause per indennizi coprifuoco il presidente di Noi Consumatori migliaia di vittime hanno deciso di chiedere tutela e giustizia vedete una foto dell'avvocato Pisani Angelo Pisani che dice stiamo subendo e subiremo troppi danni da lockdown quindi si fa portavoce del dissenso e diventa appunto il legale rappresentante di questo dissenso chiudiamo con Salerno 82 nuovi positivi in provincia di Salerno in 24 ore è una vera e propria escalation di contagi e poi ancora abbiamo visto lo sporto con il pareggio tra Vicenza e Salernitana sigilli al mercato di Sapri carenze igienico-sanitario quindi anche la cronaca e la cagnolina chicca confermate la pena ad un anno e nove mesi resta in carcere Antonio Fuoco e questa era l'ultima notizia dell'edicola di 696 TV 8 Channel vi auguro una buona giornata e vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione alle 11 in punto con 8 pagine in rete con tutti gli aggiornamenti da 8 pagine punto it alle 14 in punto con il TG News regionale e alle 14 e 30 con il TG Sport grazie ad Aldo Fenizia in regia e buona giornata grazie a tutti